Il 2019 in Toscana sarà l'anno di Cosimo primo dei Medici, di cui ricorrono i 500 anni dalla nascita e i 450 anni dalla nomina a Granduca di Toscana. Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni ha annunciato una mostra che sarà inaugurata in Palazzo del Pegaso il 12 giugno, anniversario della nascita di Cosimo e una solenne cerimonia nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e poi un bando rivolto ai comuni toscani. Abbiamo stanziato come ufficio presidenza 50.000 euro che metteremo a bando, un bando in cui tutti i comuni della Toscana con iniziative e manifestazioni dedicate a Cosimo primo dei Medici ci potranno formulare delle proposte perché Cosimo primo dei Medici nel suo operare modernizzò molte parti della sua Toscana. Tra i progetti ammissibili ci sono convegni, mostre, restauri di monumenti e cippi che ricordino il peso storico di Cosimo dei Medici, padre della Toscana moderna.